E ciao a tutti amici, io sono Franco Versa e siamo in DaVinci Resolve 16. Un amico ha chiesto se possono esportare delle immagini, dei frame in hard disk per poter ad esempio da un filmato estrapolare delle immagini e tenerle in archivio o per qualsiasi altro utilizzo. Bene, lo vedremo subito dopo la sigla. Ed eccoci qua, questo video registrato in diretta senza nessun montaggio. Allora andiamo a vedere come si fa. Vado a trascinare in timeline una qualsiasi clip e sarà il vostro filmato. Io utilizzo queste di archivio. Mi porto nel punto in cui voglio fare il frizz e quindi salvare questa immagine e per farlo in maniera veloce passo nella pagina color. Eccolo qua. A questo punto potrei salvare direttamente la mia immagine, ma siccome voglio fare qualcosina di più, la vado anche a correggere. Quindi la controllo velocemente come colori, un po' come contrasto per farvi vedere che si può fare anche una cosa in più. Insomma, posso alzare un po' il guadagno e abbassare lo shadow. Ecco qua. Anche se i bianchi non sono corretti, ma non ha nessuna importanza. Magari possiamo andare a cambiare un po' la tinta. Ecco qua. Facciamola così. Bene, adesso per salvarla, clicco con il tasto destro del mouse e vado su Grab Still. Attenzione, avere la gallery aperta. La gallery è questa parte qui dove è scritto No Still Created. Normalmente è già aperta. Se fosse chiusa, sareste più o meno così. Cliccate qua in alto, Gallery, e si apre. Quindi, cliccando il tasto destro qui, Grab Still, e sarà passata qui questa immagine che vedete. In realtà sembra in movimento perché serve per salvare le LUT, quindi proprio il colore. Andiamo a cliccare con il tasto destro del mouse qui e andiamo su Export. Avremo vari tipi di export che includono anche appunto la nostra LUT, ma noi facciamo Export. Quando si apre il pannello, fate attenzione a scegliere il tipo di file. Ad esempio, voglio un file grafico, quindi vado a impostare JPEG, TIFF, PNG, quello che desidero io. Vado a segnare un nome, io scrivo foto aereo, ad esempio, e ovviamente la location sul nostro hard disk. Io adesso la salvo sul desktop per farvi vedere velocemente. Quindi, Export, e avrò salvato questa immagine. Sarà vero? Andiamo a vedere. Ed ecco qua la nostra immagine. La vado ad aprire. Ed eccola qua. Come avete visto, una cosa velocissima da ottenere. Proviamo a farlo con un'altra senza correggerla. Quindi andiamo a prendere questa. Eccola qua. Ci spostiamo di là. Lasciamola pure così come sta. Faccio Grab. Vengo qua. Decido dove. Clicco. Faccio Export. JPEG e scriviamo FOTO AEREO 2. Salviamola sempre in Desktop. Export. E andiamo a vedere. Ed eccola qua. Perché viene sempre segnato anche il nome che era riferito alla Steam. Eccolo qua. Avete visto un'operazione veloce per salvare senza passare, dover marcare, frizzare e passare per la pagina Deliver. Bene, io vi ricordo quindi di registrarvi al mio canale, iscrivervi se non siete iscritti. Cliccare sulla campanella per ricevere quando posto i video. E ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti. E buona serata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E buona serata. Grazie.